Buongiorno a tutti, allora il sito della Better era in manutenzione, quindi il video lo sto facendo che sono quasi le 8 del mattino, no sono le 7 e mezza del mattino, vabbè poi andrà a dormire dopo non è un problema, tanto ci sono abituato. Allora allora allora, poi guardate dopo ieri sera mi sa che dormire non sarà molto semplice perché ho un po' di nervosetto, vabbè succede, ogni tanto deve capitare, non è che può sempre andare bene. Andiamo a vedere le partite dell'Europa League partendo da Glasgow Rangers Benfica, all'andata è terminata 2 a 2 tra Benfica e Rangers, quindi il Ranger sulla carta in casa. Dovrebbero essere favoriti, però ragazzi miei il Benfica non è sicuramente una squadra scarsa, il 2 a 2 non vuol dire nulla, una volta sì, una volta si erano uccelli per diabetici fare 2 a 2 in casa con la regola del gol in trasferta che vale doppio. Con la nuova regola è come aver fatto 0 a 0, 1 a 1, 3 a 3, 25 a 25, non cambia nulla. Vai a giocarti in partita secca una finale, se il risultato resta in pareggio dopo i supplementari si va ai rigori. Quindi entrambe le squadre hanno un solo risultato per passare il turno e il risultato di mezzo porta ai calci di rigore che sono sempre una cosa poco simpatica. Diciamo che i rigori sono molto piacevoli per i neutri, quelli che guardano la partita si godono la partita senza tifare per nessuna delle due squadre, ma sono una tristezza ahimè per chi è coinvolto nella gara. Quindi per cui siccome mi auguro che non finisca in pareggio, perché di rigori ne abbiamo già avute due su otto, due gare a rigori sono andate due su otto già in Champions, quindi magari se la chiudono prima è meglio. Quindi vi dico Glasgow Rangers Benfica 1-2. Slavia Praga Milan. Sono preoccupato, ve l'ho detto, sono preoccupato perché l'andamento delle italiane in Champions non me l'aspettavo, tutte e tre fuori non me l'aspettavo. Quindi per cui sono leggermente preoccupato anche per quanto riguarda l'Europa Liga anche se le italiane le vedo favorite, tutte e tre. Solo che purtroppo l'unica che non mi dà alcun problema è la Roma, che invece in sede di sorteggio ha detto madonna siamo rovinati. E invece la Roma l'ha chiusa. Il Milan quasi però, vedendo quello che ha fatto lo Slavia Praga alla Roma nel girone, se non entrano concentrati o che cosa potrebbero fare la stessa fine, sarebbe una tristezza con Milano, con tutte e due le squadre fuori dall'Europa, mi darebbe un po' fastidio. Io non sono geloso dei milanisti se vanno avanti, cioè potrei esserlo se vincono l'Europa League. Potrebbe darmi un po' fastidio, ma comunque gli farò i complimenti, non è che faccio il curucu. Poi io gli chiamo lo stesso scappati di casa, ma perché ho visto un Milan molto molto più forte di questo, non lo puoi paragonare a quel Milan. Poi vedendo anche l'andazzo dei derby. Quindi Indy per cui 1-2 anche per Slavia Praga Milan. Villareal-Marsiglia. All'andata aveva stravinto l'Olympi-Marsiglia 4-0, quindi direi che la partita è chiusa. E allora a sto punto, siccome tanto il Marsiglia penserà solo a gestire quel 4-0, credo che alla fine il Villareal vinca 1-2-0, tanto così per dargli il contentino a uscire a testa l'alta, quindi mi arrischio un 1 fisso. West Ham-Friburgo. Allora, 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 West Ham-Friburgo all'andata aveva vinto il Friburgo 1-0. Bella sfida. Anche qui mi arrischio l'1. Penso che il West Ham vincerà questa partita, ma è molto probabile che vada nei tempi supplementari. Può darsi 2-1 anche come risultato. Magari non riescono a fare un 3-1, però secondo me sarà una partita con tre o quattro reti. Poi magari finisce anche 2-2, eh, chi lo sa. Però voglio dare fiducia all'West Ham e dico 1. Atalanta-Port Sport in Lisbona dico 1, a rischio e pericolo. Non voglio dare fiducia all'Atalanta. Bayer Lake-Bercusa in Karabakh 1, non c'è se non c'è ma, anche se all'andata c'è stata la surprise party. Aspetta, dov'è? Aiuto, dov'è finito. Ah, no, era finita 2-2. Scusate, era finita 2-2. Bayer Lake-Bercusa in Karabakh era finita 2-2. e quindi 1 secco, dai, non c'è se non c'è ma. Proseguiamo con, vabbè, Brighton-Roma 1-X e Liverpool-Sparta-Praga 1-X. Non c'è partita, ragazzi. Già l'andata Liverpool l'aveva già praticamente chiusa, quindi... con un secco 5-1. Quindi... Il problema di queste partite è che può darsi che possa finire 1-0 o 2-0 con il Liverpool perché non è che si metta a fare le goleade o addirittura giochi con le seconde linee e possa fare una figura da curucu, ma non penso. Detto questo, andiamo alla schedina alternativa. Allora, Glasgow Rangers-Benfica dico un bel gol data 1,50. Slavia-Praga-Milan, anche qui dico un bel gol dato ancora a 1,50. Vabbè, la media è quella. Villarreal-Marsiglia, diciamo anche qui un bel gol a 1,45. Perché comunque il Villarreal almeno un gol lo vorrà fare. Il Marsiglia se vede la mala parata che magari il Villarreal pronti via 1-0, 2-0 tenterà subito di fare il suo gol per chiudere il discorso, non si sa mai. Poi, West Ham United-Friburgo, anche qui gol a 1,80. Atalanta-Sport in Lisbona. Qua vado di over 2,5 a 1,60. Ah, aspetta eh. Mumento, Mumento, a 1,67. Bayer-Leverkusen-Qualabag over 2,5. Anzi, over 3,5. Esageriamo. Il Gigione esagera. Over 3,5 a 1,84 perché a 1,33 non dove vale la candela. Rischiamo questo over 3,5. Brighton-Roma gol dato a 1,60. E Liverpool-Sparta-Praga, anche qui over 3,5. Speriamo in bene perché sennò veramente l'over 2,5 pagato 1,30. A me viene francamente da ridere farvi un over 1,5 a 1,3. A 2,5, scusate, a 1,30 mi viene da ridere. Quindi over 3,5 a 1,80. Bene, queste sono le mie propostine per le gare di questa sera a 18,45 e 21 di Europa League. Speriamo in bene che passino tutte e tre le italiane che ne abbiamo veramente bisogno. Io non faccio, ve l'ho detto, non mi metto a fare il gufo. Speriamo che riesca a quello di fare come il milanista quattro occhi che è lì che fa il cinema. Si divertono loro a fare il cinema. Non capiscono che vedere le squadre italiane uscire negli ottavi è deleterio per l'Italia e non per le squadre italiane. Anche perché comunque nessuno aveva l'ambizione di andare a vincere la cena. Ci si prova, sei lì, te la giochi. È normale, come giusto che sia. Va a vedere lì che godono come dei ricci, eccetera. Hai vinto tu? No. Io lo continuo a dire. Non hai vinto tu. Vincere il termine è giusto che fai le battutine, eccetera. Ma se la squadra Y ha battuto la squadra che ti sta sulle scatole goditi la tua cosa non stare lì a fare pipipipipipipip perché poi il karma ti colpisce e la volta dopo puff lo prendi in quel posto e poi dopo piangi magari era anche una partita che sulla carta poteva esserti utile peraltro vale ragazzoli la mia proposta ve l'ho detta adesso la carichiamo subito veloce veloce da lecarsi le orecchie almeno per le nove e mezza e online perché visto che ci sono i video alle 9 alle 10 di news e call news vela detto nel anzi però detto alle dieci e mezza dai tanto non ci corre dietro nessuno le partite sono alle 18 e 45 10 e 30 e 11 l'europa league e conference i problemi non ce ne sono detto questo io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo la prossima ciao